Allora Presidente, questa vittoria è una soddisfazione per il cittadino diretto? Certamente, una bella soddisfazione perché abbiamo puntato quest'anno decisamente sulla squadra grazie al rientro di Simone e di Daniele che sono venuti a rinforzare la squadra precedente avevamo qualche ambizione, abbiamo visto che queste ambizioni erano giustificate, erano motivate la squadra ha colto un brillantissimo successo, oltre alla promozione alla seconda divisione della Coppa Giuseppucci per il prossimo anno abbiamo addirittura vinto, quindi siamo arrivati fino in fondo, è una grossa iniezione di morale, fa da traino anche per tutti i ragazzi della nostra scuola tennis, quindi la soddisfazione è palpabile, siamo tutti veramente molto soddisfatti grazie a questi ragazzi, grazie agli avversari che si sono dimostrati degni e veramente forti per cui alle finali non arrivano mai per caso due squadre, arrivano perché sono normalmente quelle più forti, veramente siamo soddisfatti, un bel successo, una bella partecipazione di pubblico, dà anche questa soddisfazione, significa che il nostro sport è già ancora un buon seguito e noi facciamo di tutto per mantenerci sia gli atleti che i tifosi bene, bocca al lupo anche per il prossimo anno credi, l'appuntamento è per le prossime manifestazioni che faremo, i campionati della Coppa Marche e i tornei singolari, abbiamo comunque un altro torneo a metà aprile, quindi fra un mesetto circa, invitiamo tutti gli amici appassionati a venire a vedere anche quest'altro torneo grazie grazie